Per ridere, per Luigi, ehi fatevi vedere, fatevi vedere, giovani fatevi vedere, Silvetta, Silvetta, e mi guarda la Silvia, 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 terza posso vedervi? Poco a poco. Silvia, ciao. Buongiorno signora. Edoardo dove stai? Edoardo, calmati, sei? Edoardo? Mira si giro. Buongiorno signora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È un luogo di preghiera, è un luogo di preghiera. Per favore, silenzio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.